Uno scontro istituzionale, in piena regola, scende il gelo tra il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci e il sottosegretario tarantino alla presidenza del Consiglio, senatore Mario Turco. Quest'ultimo nella giornata di oggi ha programmato una serie di sopralluoghi per verificare la disponibilità di aree dove poter insediare nuovi progetti finanziati dal contratto istituzionale di sviluppo, tra cui quello relativo all'acquario, alla presenza di tecnici della Presidenza del Consiglio e del Ministero dei Beni Culturali. Il Comune però non ci sarà. Il no definitivo all'insediamento di Arcelor Mittal, pronunciato dal primo cittadino assieme agli altri enti locali del territorio, ha demarcato una distanza quasi incolmabile tra Palazzo di Città e il Governo. Il sindaco Melucci, in una nota dai toni duri, ha preferito precisare che preferisce dare priorità ad un incontro con l'assessore all'ambiente Analisa Adamo e ai tecnici della Direzione Comunale Ambiente per analizzare i gravi fatti registrati nello stabilimento siderurgico il 4 luglio, ovvero lo sversamento di polveri avvenuto dopo la tromba d'aria sull'intero quartiere Tamburi e zone limitrofe. È inutile parlare di acquari se non si affronta prima la riconversione radicale dell'ex Silva, dice il sindaco. Altrimenti tutte le risorse hanno il sapore di beffa e di un palliativo pressoché inutile. Il Comune pensa anche ad un esposto per segnalare una volta di più la grave criticità ambientale della città. Lo strappo tra sindaco, multinazionale franco-indiana e il governo è ormai evidente.